Sì, proprio in questo momento dietro la porta che vedete alle mie spalle si sta svolgendo un'importante rimione tra l'apparato del Viminale, dentro c'è il ministro dell'interno Piantedosi che è arrivato da pochi minuti, i capi di partimento e il capo del corpo dei vigili del fuoco sono in collegamento proprio in questi minuti con il capo della protezione civile Curcio e con la prefettura di Napoli. Da poco è intervenuto anche il sindaco Manfredi per fare il punto della situazione. Alle 19.30 probabilmente ci sarà un punto stampa o comunque un aggiornamento della situazione che riguarda ovviamente il numero purtroppo delle vittime e delle persone disperse e isolate. Il ministro Piantedosi da questa mattina qui al Viminale dove è istituita la sala crisi presso il centro operativo nazionale dei vigili del fuoco sta seguendo costantemente la situazione, ha avuto un collegamento anche con la presidente del consiglio Meloni, con tutti i capi di partimento della protezione civile da tutta Italia. Qua sostanzialmente la grande cabina di regia da cui si coordina l'imponente macchina del soccorso, l'invio soprattutto di uomini e mezzi, 85 vigili del fuoco, quelli che sono stati inviati ad Ischia, 25 mezzi ne serviranno altri. In questo momento c'è il problema appunto delle avverse condizioni del tempo. Gli aggiornamenti quindi arriveranno in coda a questa riunione. Per ora è tutto, la linea a voi.